Esercitare la mezza punta in questo modo con l'alluce valgo non fa altro che esasperare questo difetto. Quello che dovete fare quando avete tempo e modo è sempre di cercare di raddrizzare le dita, vedete, manualmente, spingetele bene sul pavimento, schiacciatele bene, insistete e poi provate a salire sulla mezza punta. Inizialmente non sarà una cosa tanto semplice, anzi farà un pochino male proprio perché non siamo abituati, ma questo è un lavoro molto, molto efficace per far sì che la situazione non peggiori e che anche la postura dei piedi ne tragga giovamento, quindi provate, non è tanto semplice perché naturalmente le dita tendono ad andare nella posizione iniziale. Con un piede sarà difficile, molto più difficile, ne parleremo, cominciate chiaramente con i due piedi paralleli raddrizzando bene il dita. Provate! E se il video vi è piaciuto, naturalmente, cliccate su mi piace, condividetelo, iscrivetevi al canale e andate a visitare i nostri siti dove troverete musiche, video per la danza, info sui concorsi Balletex, insomma tutto per la nuova stagione. A prestissimo! Ciao!